A porte chiuse di Jean-Paul Sartre. Regia di Mario Chiari. 1945. Il matrimonio di Figaro di Caron de Beaumarchais. 1946. Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Regia di Franco Zeffirelli. 1949. Gli straccioni di Hannibal Caro. Regia di Guido Salvini. Prima al Teatro Valle di Roma L. 8 settembre 1950.